La terribile storia di un uomo che ha creato una stanza per esprimere le sue più profonde e agghiaccianti fantasie. Ha costruito con le sue mani vari oggetti che possiamo definire erotici. Oggetti fatti però con chiodi, tubi e arnesi da taglio. Questa è la tremenda storia dell'uomo conosciuto come Toy Box Killer. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e rinchiudervi in una stanza perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Ma non prima di ricordarvi che su Pampling trovate tutte le magliette che indosso nei video. Ora che si avvicina Natale ovviamente ci sono sconti, promozioni, dei regalo e così via. Ce n'è tipo per tutti. E inserendo il codice Andrew, come al solito, riceverete anche un paio di calze a scelta in omaggio. Ok, ora iniziamo per davvero. Lui è David Parker Ray, nato a Belen nel New Mexico il 6 novembre del 1939. Appena venuto al mondo, Ray deve subito affrontare diversi problemi. Problemi causati dalla sua stessa famiglia. Non nasce in un contesto amorevole e tranquillo. Anzi, i suoi genitori sono delle persone decisamente problematiche e pericolose. Sua madre, Nettie, è una tossicodipendente e non c'è quasi mai per i suoi figli. Mentre il padre, Cecil, è forse uno dei padri peggiori che un bambino possa mai avere. Quest'uomo è un ubriacone violento, autoritario, sadico e con una personalità controllante. Per capirci, le personalità controllanti sono quelle che hanno bisogno che le persone intorno a loro si comportino in un certo modo. Non rispettano assolutamente il volere e le barriere psicologiche degli altri, perché per loro esiste un solo modo giusto per fare le cose. Il loro. Infatti Cecil picchia spesso il piccolo Ray e riserva lo stesso trattamento anche alla moglie e all'altra figlia, Peggy, la sorella di Ray. Il clima in casa è talmente tossico da non poter stare mai, ve lo giuro mai, tranquilli. La situazione è così tragica che, forse per esaurimento, la madre si separa da quel marito mostruoso. E al momento di questo divorzio il piccolo Ray ha solo 10 anni. Quindi lui, sua madre e sua sorella Peggy si trasferiscono dai nonni e sembra, almeno in teoria, che finalmente trovino tutti un po' di pace. Ma purtroppo non è così. Non è chiaro il motivo, ma il padre violento di Ray viene a far visita spesso e come al solito non si risparmia. Continua quelle torture fisiche e psicologiche specialmente su Ray. Il ragazzino passa la sua intera giovinezza come in un inferno. È di carattere timido, impacciato e per questo viene pure bullizzato a scuola. La sua routine quotidiana è fatta di violenza a scuola e poi violenza a casa. Un tunnel degli orrori senza fine e da qui non c'era una vera e propria via d'uscita. Sua madre, tra l'altro, non si riprenderà mai dalla sua dipendenza e, anche se non è molto specificato, pare essere scomparsa. In che modo non si sa. Non sappiamo se è solo scappata o sia accaduto qualcosa di peggiore. Fatto sta che abbandona i figli a casa dei loro nonni, dove continueranno a vivere e crescere. Il ruolo dei nonni, però, in tutta questa storia non viene mai menzionato troppo. Ed è come se anche loro fossero impotenti davanti alla figura di questo padre padrone. L'unica cosa che sappiamo è che anche il nonno era un uomo molto rigido e severo. E, insomma, non si trattava di un ambiente adatto a crescere dei bambini di sicuro. Ma la cosa ancora più inquietante della vita di Ray in quel momento è ciò che suo padre gli dà di tanto in tanto. Detta così, mamma mia. Oltre alle botte e alle violenze verbali, il padre gli regala diverse riviste per adulti. Gli fa anche guardare spesso film per adulti e gli parla di cose per adulti. La particolarità di queste cose per adulti è che sono di carattere BDSM. E adesso piccolo disclaimer. Ci tengo a precisare che ognuno è libero di fare quello che vuole e che se c'è il consenso reciproco queste pratiche sono assolutamente lecite. Molti generi di rapporti intimi sono assolutamente opportuni se c'è sempre il consenso e se si rispetta la legge. Ma qui stiamo parlando di un ragazzino che sta per entrare nella pubertà. Un ragazzino vessato a scuola e in casa da un padre che lo maltratta. E che allo stesso tempo gli mostra donne nude schializzate al volere di qualcuno. Ci rendiamo presto conto che non è affatto una situazione sana. Non sono riuscito a capire se anche sua sorella Peggy ha subito la sua stessa sorte. Forse non è stata sottoposta a quell'indottrinamento sessuale ma in generale possiamo solo fare supposizioni. Molti credono che questa situazione abbia reso rei ciò che è poi diventato. Che questo suo passato tormentato e disgustoso lo abbia trasformato nell'uomo di cui adesso vi parlerò. Non si sa con certezza ma l'ipotesi è altamente probabile. Bisogna anche precisare però che non è sempre così. Non sempre un bimbo che nasce in un pessimo contesto sviluppa degli atteggiamenti o pensieri pericolosi. Insomma se nasci in una famiglia schifosa non è detto che anche tu diventi schifoso. Le scelte sono la base della nostra vita e del nostro destino. Siamo noi a scegliere cosa diventare. È pur vero però che in certi contesti non si ha scelta e si è costretti a diventare quello che non vorremmo. Forse tutto questo è successo a Rei. Negli anni del liceo Rei segue in un certo senso le orme sia di suo padre che di sua madre. Inizia a fare uso di sostanze stupefacenti e si dedica all'alcol. Oltre a ciò comincia a sviluppare un interesse sempre più forte verso la portografia. E lentamente questo interesse si trasforma in una vera e propria ossessione. Un'ossessione che però prende delle sfumature particolari. Perché così come suo padre, Rei, predilige il BDSM. Prende intere collezioni di riviste e materiale da suo padre e lo apprezza tantissimo. Troppo. Realizza anche lui dei disegni erotici e eccessivamente espliciti. Alcuni a dir poco disgustosi. E dico così anche perché a quel tempo Rei ha solo 14 anni. E le fantasie che gli balzano in testa sono oscene. Pensate che sua sorella Peggy un giorno scopre questa collezione. Scopre il tesoro nascosto di Rei, se così possiamo chiamarlo. E ne rimane letteralmente scioccata. Talmente tanto da iniziare a prendere un po' le distanze da suo fratello. Ovviamente però questo non lo ferma. Anzi. E questo anche perché nessuno gli parla in modo giusto. Nessuno fa niente per capire cosa passa nella testa di questo ragazzo. Che viene lasciato da solo in balia della violenza della vita. Oddio non lo sto vittimizzando però vabbè. Forse in quelle riviste per adulti trova il suo unico sfogo. L'unica soluzione a quella vita terribile. Ma comunque passa altro tempo e ancora più cresciuto Rei decide di arruolarsi nell'esercito. Li, come farà poi per il resto della sua vita, lavora come meccanico ed è molto bravo in quello che fa. I suoi colleghi e camerati lo vedono come una persona disponibile. Brava nel suo lavoro e disposta persino a spiegare agli altri quello che fa. Se c'è bisogno di aggiustare o riparare qualcosa, Rei è lì che fa il suo dovere e segue nei passaggi chi ha con lui. Con la gente scambia delle battute, si mostra cordiale e alla mano. Una persona squisita. Un ottimo amico. Sembra come una rosa sbocciata da un roveto. Una persona finalmente libera dalla condizione opprimente in cui prima era incatenato. Ho detto sembra perché in realtà nella sua testa ci sono vari pensieri. Pensieri non così felici come da vedere. Pensieri che lo perseguitano fin dalla tenereità. Congedato con onore dall'esercito, torna tra la comunità e si sposa. Il matrimonio con questa donna, di cui non sono riuscito a trovare il nome, però fu terribile. Lei infatti ha spiegato che Rei aveva dei comportamenti inquietanti. Ma non approfondisce più di tanto, possiamo solo immaginare, date tutte le premesse. Sicuramente sua moglie l'ha mandato a quel paese prima che fosse troppo tardi. E questa situazione si ripete per ben tre altre volte. In tutto Rei si sposa con quattro donne e quattro volte alla fine divorzia. E tutte loro dicono la stessa cosa della prima. Rei è inquietante. Ha modi di fare terribili e loro lo hanno mandato a quel paese, sostanzialmente. Da questi matrimoni falliti sono comunque nate due figlie. Una di nome Glenda Jean Rei, chiamata da tutti Jessie. E un'altra di cui non conosciamo il nome per suo stesso volere. Questa seconda figlia non vuole essere associata a tutta questa storia e preferisce rimanere anonima. Mi sembra giusto rispettare il suo volere. Comunque dopo questi quattro matrimoni, Rei è ormai un uomo di mezza età. È una persona vissuta, ma con un mucchio di segreti. Ha tanti amici ed è molto legato a sua figlia Jessie. La passione per l'intimità spinta, però, non si è affatto placata. Anzi, è decisamente peggiorata. Forse spinto dalla famosa crisi di mezza età, Rei comincia a non farsi più scrupoli e diventa un uomo brutale. Molto simile a suo padre. Anzi, per certi versi, addirittura peggiore. Vive sempre nel New Mexico, in un posto chiamato Elephant Batty. Bat. Elephant Bat. Una piccola cittadina con poco più di 1000 abitanti. E, almeno dalle foto, sembra davvero carina. A quanto pare, però, Rei non è che abitasse proprio ad Elephant Bat, perché viene citata anche un'altra città di nome Truth or Consequences, che significa letteralmente Verità o Conseguenze. Ve lo giuro. Non sto scherzando. Si chiama così. Pare quindi che Rei abbia fatto questo ping pong tra queste due cittadine. Una con un nome che quasi suona come il culo di un elefante, Elephant Batty, Batty, non so come si pronunci, e l'altra che si chiama Verità e Conseguenze. Comunque, al di là di questo aneddoto quasi divertente, devo rivelarvi che c'è anche qualcosa di strano. A rovinare la fama di questi posti, infatti, non è solo la presenza di Rei, ma anche la gente che ci abita. Ora vi spiego. Tra queste due città si è formata negli anni una fortissima e fittissima comunità criminale. Piccoli spacciatori, giri di adescatori, piccole gang e chi più ne ha più ne metta. Un vero schifo. Siamo nel 1999, la situazione lì è tragica, e nessuno pare far nulla per risolvere questo problema. A quanto pare non si è fatto nulla un po' per svogliatezza, un po' perché il problema era ormai troppo vasto, e non lo si poteva smantellare così in poco tempo. Per cui il nostro Rei, cresciuto già in un pessimo ambiente, si ritrova ancora in un pessimo ambiente. Lo si può immaginare lì, a suo agio, in un posto dove quasi respira aria di casa sua. E, inutile che ve lo dica, ne approfitta. Si immerge in questo mondo. Rei continua il suo lavoro come meccanico, e fa la conoscenza di una donna con cui esce volentieri. Lei si chiama Cindy Andy, e l'ha conosciuta in un luogo che ha un nome che non riesco a pronunciare. Elephant Butt Lake State Park. Ok. Riesco a dirlo se lo dico e basta, se invece ci faccio una frase insieme, no. Comunque, è questo luogo, è il luogo di lavoro di Rei. I due quindi si incontrano, si piacciono, e Rei non è più vincolato da nessun matrimonio, quindi può essere libero di vedere Cindy e di fare quello che vuole con lei. Infatti lei vive in una casa mobile con tanto spazio attorno, e i suoi vicini si fanno sempre i fatti loro, e nessuno rompe le scatole. Rei allora capisce che finalmente il libero dai vincoli, con una bella fiancée al suo fianco, può realizzare un'idea che gli frulla nella testa da tanto tempo. L'idea che avrebbe coronato il suo sogno di fare alle donne tutto quello che ha sempre visto nelle riviste e film della sua infanzia. Mio Dio, che cosa brutta da dire. Con l'aiuto di Cindy, Rei crea la sua famosissima toy box, la scatola dei giochi. Ora, un po' come nello scorso video, purtroppo certi dettagli non posso proprio descriverveli alla lettera. Infatti in questo punto della storia tocchiamo un fondo davvero basso, orribile, sotto moltissimi punti di vista. Cercherò comunque di riassumervi in un modo comprensibile ed esaustivo tutto quello che è successo da qui in poi. I deboli di cuore sono avvisati. Si parlerà anche di totture e sevizie. Rei dà fondo ai suoi risparmi, e per un costo totale di 100.000 dollari compra un camion con rimorchio, e lo tiene nel suo cortile. Il rimorchio di questo camion è la vera toy box, un luogo di tormenti intimi allestito di tutto punto. Immaginate come la stanza dei giochi di Mr. Grey di 50 sfumatori di grigio, ma decisamente più raccapricciante. Ci sono tantissimi oggetti, tra cui seghe, coltelli, aghi, pinze, forbici e vari strumenti chirurgici. E poi cinghie, catene, frustini, collari, manette, e addirittura alcuni strumenti elettrificati da un generatore fatto in casa. E poi ci sono anche svariati giocattoli erotici. Come carta da parati, invece, usano svariate riviste con immagini e foto di donne nude in chiave BDSM. Sono presenti vari attrezzi anche creati proprio dalle mani di Rei. Lui è un meccanico, per cui sa costruire e riparare. Crea così delle sorte di tubi per infilarli ovunque. Usa anche del PVC e dei chiodi, sempre per lo stesso scopo, è uno schifo. Cioè, ben oltre il limite di quello che possiamo chiamare erotismo. E non parliamo di oggetti di forma fallica di piccola dimensione. Rei crea delle vere e proprie macchine per la piena dimensione, assemblando i vari componenti per rendere il gioco più dinamico e sadico possibile. Più che stanza del piacere, quella stava diventando una stanza delle toccature. Al centro di questo rimorchio, di questa toy box, c'è una sorta di cosa, un accrocchio messo in piedi con vari strumenti da ginecologo. Ed è quello il luogo in cui piazzare le vittime. Sul soffitto c'è uno specchio in cui la vittima si può vedere riflessa, completamente impotente. E tutto attorno ci sono solo le foto di quelle riviste sadiche ed estreme. Se ti trovassi lì come preda di questo suo gioco, vedresti te stesso sul soffitto, incatenato in questa gabbia mortale. La via d'uscita è solo la porta del rimorchio, chiusa a chiave ovviamente, e non la puoi raggiungere. La toy box è il sogno, direi, la sua più grande creazione e la realizzazione di ogni suo desiderio che aveva avuto fino a quel momento. E ora che la trappola è stata piazzata, il cacciatore non deve far altro che andare a caccia di prede. Senza il loro consenso, ovviamente. Ora, sul quantitativo delle vittime, ci sono pareri discordanti. Prendete con le pinze il numero che sto per dirvi, ma è solo per farvi capire la crudeltà di quest'uomo e dei suoi collaboratori. Si parla di 40, 50 o 60 vittime in tutto. Parlo del totale delle persone che si sospetta siano entrate in quella toy box. Non tutte sono morte, ma sono pur sempre vittime. Comunque Ray ha architettato diversi rapimenti con l'aiuto di qualche amico. Uno in particolare si chiama Dennis Roy Yancy. Oltre a lui e alla ragazza con cui esce, ovvero Cindy, c'è anche una delle sue figlie, Jessie, che è complice in tutto questo. Perciò tutti e quattro, Ray, Cindy, Dennis e Jessie, si portano avanti per molto tempo in questa attività criminale collettiva. Favorita anche dalla condizione del posto in cui vivono. Le vittime, come detto prima, non sono tutte decedute, ciò non toglie la gravità dei gesti di questo mostro e dei suoi amici. Molte donne sono state rapite e poi costrette a subire torture di ogni tipo. Costrizioni intime brutali e ferite quasi immortali. Ray ci tiene inoltre a far sapere alle sue prede quanto sia felice di vederle lì, a sua disposizione, mentre osservano consapevoli e coscienti tutto quello che sta facendo. Da buon sadico, Ray si gode questa sua infernale libertà, spesso registrando gli audio delle tratture che infligge. Riascolta poi le urla strazianti di quelle donne costrette alla peggiore miseria. E sorprendentemente, tra quelle rilasciate e quindi sopravvissute, praticamente nessuna lo ha denunciato. E questo è davvero strano. Com'è possibile che dopo quelle sedizie e le sopravvissute non abbiano chiesto aiuto? Come se non bastasse, sembra che Ray non si sia limitato agli esseri umani. Faceva i suoi giochi sadici anche con gli animali. Si è portati a pensare che la Toy Box e il suo proprietario avrebbero potuto continuare in eterno con questo orrore. Ma per fortuna una fine c'è. Ecco com'è andata. La data in cui si è svolto tutto non è precisa. C'è chi dice il 19 marzo 1999 chi il 22 marzo. Sta di fatto che un giorno di quel mese e di quell'anno una ragazza di 22 anni di nome Cynthia Vigil sta facendo l'amore con qualcuno in un parcheggio ad Albuquerque, nel New Mexico. Proprio durante l'atto all'improvviso si avvicina un uomo. Interrompe quel rapporto e afferma di essere un poliziotto sotto copertura. e dice che è in arresto per adescamento e che deve essere portata in prigione. Quest'uomo l'ha manetta e la carica nel sedile posteriore della sua auto. Ma l'uomo ovviamente non è un vero poliziotto. È proprio David Parker Ray il mostro della Toy Box e sta rapendo un'altra delle sue vittime. Ray porta Cynthia in quella famosa roulotte. La incatena alla postazione centrale con la sorta di tavolo da ginecologo e dà sfogo a tutte le sue fantasie. Per ben tre giorni consecutivi ha violentato e torturato Cynthia con l'aiuto della sua ragazza Cindy. Sulla povera vittima usano fruste strumenti medici scosse elettriche e anche quei giocattoli fabbricati dallo stesso Ray. Prima di iniziare questa attività come al solito Ray registra una cassetta dove spiega apertamente tutto quello che le farà. In quella particolare cassetta spiega che la sua nuova prigioniera Cynthia deve riferirsi a lui solo come padrone e invece deve chiamare padrona Cindy la compagna di Ray. Cynthia non avrebbe mai dovuto fiatare senza il loro consenso e le dice chiaramente che lei in particolare non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia e che sarebbe morta lì come tante altre prima di lei. Il terzo giorno però accade l'imprevisto l'evento che per fortuna ribalta tutto. Mentre Ray è a lavoro Cindy la fidanzata lascia accidentalmente delle chiavi vicino alla postazione centrale erano le chiavi delle cinghie che tenevano Cynthia immobile Cynthia quindi è lasciata lì da sola in quella roulotte e presto si accorge che la chiave delle sue catene è lì vicino a lei inizia a vedere una luce di speranza e capisce che deve raggiungerle è una questione di vita o di morte letteralmente malgrado le cinghie che le immobilizzano in qualche modo si lancia con tutto il corpo verso le chiavi le afferra e si libera le mani. Forse per il rumore causato da questo gesto disperato però Cindy la compagna di Ray torna dentro la toy box e vede la prigioniera che si sta liberando parte quindi uno scontro feroce tra le due donne una lotta per la vita ad un passo dalla libertà la prigioniera Cynthia si ribella e combatte con tutte le sue forze e alla fine riesce a colpire al collo la sua nemica mettendola a KO e riuscendo così ad uscire fuori all'aria aperta Cynthia ormai è libera ma è nuda ferita e impaurita corre con ancora un collare attaccato al collo e cerca immediatamente aiuto si allontana il più possibile da quella stanza maledetta disperata con le lacrime agli occhi e distrutta si fionda a casa di un vicino di Ray questo per fortuna è un uomo gentile che la accoglie a braccia aperte Cynthia allora confortata spiega tutto quello che le è successo racconta di quei tre giorni d'inferno e del mostro che è Ray il vicino allora chiama subito la polizia e in poco tempo tutto è finito Ray e la sua banda vengono arrestati e la toybox viene aperta e messa sotto sequestro il caso diventa famoso in tutto il mondo e Ray viene nominato toybox killer dato l'enorme riscontro mediatico che circonda l'arresto di David Parker Ray un'altra donna si fa avanti con una storia simile si chiama Angelica Montano ed era una conoscente di Ray questa donna dopo essere entrata nella sua casa per prendere in prestito un impasto per dolci era stata drogata abusata e torturata dall'uomo era poi stata abbandonata in un'autostrada nel deserto lì è stata trovata dalla polizia ma sul momento non aveva denunciato i crimini che aveva subito e forse c'è un motivo si viene a scoprire infatti che Ray usava spesso sostanze che inducevano amnesia e perdita di memoria sulle vittime così si assicurava un lavoro pulito senza ripercussioni e senza che le vittime che rilasciava riuscissero a ricordare gli orrori subiti ecco perché quasi nessuna aveva tentato di farsi avanti ma adesso la faccenda è ben diversa una delle sopravvissute è riuscita a scappare e a trovare la forza di portare a galla tutto il marcio di quest'uomo e dei suoi collaboratori durante i vari interrogatori la prima a cedere e raccontare tutto alla polizia fu Cindy la compagna di Ray la donna spiega tutto ciò che era accaduto e fa i nomi di Jesse e Dennis Roy Yancy vi ricordo che Jesse è la figlia di Ray mentre Dennis il suo collaboratore è amico durante i vari processi emerge un vero e proprio uragano di orrori pare che Ray non si fosse limitato a togliere la vita solo durante l'utilizzo della toy box ma anche prima di averla costruita si crede infatti che avesse legato una ragazzina ad un albero e l'avesse fatta fuori e tra i nomi delle sue vittime emerge anche quello di Marie Parker una ragazza morta stranissata per mano di Ray e sua figlia Jesse come il padre infatti anche Jesse in quegli anni si dimostra di una crudeltà allucinante la ragazza infatti conosceva una certa Kelly Garrett una sua amica il 24 luglio del 1996 questa Kelly dopo aver litigato con suo marito decide di passare la notte a giocare a biliardo in un saloon proprio con Jesse e seguendo le orme e le indicazioni di suo padre Ray Jesse droga la birra della sua amica per rapirla e portarla nella toy box lei e suo padre le mettono poi un collare e un guinzaglio e la torturano per due giorni tenendola per tutto il tempo sotto stupefacenti dopo questi due giorni Ray le taglia la gola e la scarica sul ciglio della strada ma miracolosamente Kelly Garrett sopravvive peccato che però la sua agonia non è ancora finita lei prova a parlarne cerca di raccontare ma nessuno né suo marito né la polizia crede alla sua storia anzi suo marito chiede addirittura il divorzio e la lascia da sola adesso però con il processo in corso e tutto lo schifo che emerge anche lei si fa avanti in questa battaglia e non c'è nessun avvocato al mondo che possa trovare delle scusanti per Ray e la sua combriccola le prove sono evidenti le testimonianze anche nessuno può difenderli e infatti il processo li vede tutti come colpevoli in ordine questa è la fine che hanno fatto Dennis Roy Yancy l'amico e complice viene condannato a 30 anni di galera nel 2010 è stato rilasciato sulla parola dopo aver scontato 11 anni di carcere tre mesi dopo nel 2011 viene accusato di aver violato la sua libertà vigilata è stato rinviato in custodia cautelare dove è rimasto fino al 2021 Cindy Andy l'ex fidanzata di Ray che ha testimoniato in suo sfavore riceve invece una condanna di 36 anni è stata rilasciata il 15 luglio 2019 dopo aver scontato i due anni della sua libertà condizionale in prigione Jessie Ray la figlia riceve una condanna a 9 anni di galera mentre David Parker Ray la mente dietro a tutto questo riceve una pena severa e quasi simbolica 224 anni di carcere sarebbe rimasto in cella per il resto dei suoi giorni ma alla fine è morto per un attacco di cuore il 28 maggio 2002 a soli 3 anni dalla sua condanna a ricordare tutta questa storia non ci sono solo le testimonianze ma anche le foto e i video che riguardano Ray e tutto il suo disgustoso operato in un certo senso giustizia è stata fatta Cynthia Vigil l'ultima vittima in seguito ha fondato lo Street Safe New Mexico si tratta di un'organizzazione no profit volontaria per aiutare sostenere e migliorare le condizioni di chi lavora per strada questa sembra essere la fine di tutto e sinceramente lascia una grande amarezza all'orrore umano pare davvero non esserci limite ma questo per oggi è tutto quello che sono riuscito a scoprire io come al solito ragazzi spero che anche questo video vi sia piaciuto vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao